Notiamo dei dettagli, forse che nessuno ha mai sottolineato. Allora, lasciamo al quinto piano. C'è l'ala di sinistra e l'ala di destra. Andiamo nell'ala di destra dove c'era 516. 516 dal lato opposto al lato dove è successo tutto. Come tutti sappiamo in realtà l'ora avrebbero dovuto essere alla 533. Vediamo dove la 533 è allora. Cerchiamo la stanza 533. Ecco la 533. Cosa notiamo? Che è proprio vicino alla finestra dove è successo tutto.